La Sir Safety Perugia che dopo due sconfitte consecutive ha chiuso il trittico contro le tre big del campionato a Civitanova contro la Lube, avanti 2-0 la formazione di Kovac che ha giocato due set davvero convincenti, poi nel terzo che si è deciso sul filo di lana è tornata avanti Civitanova, poi il calo della Sir e la vittoria al quinto set 15-10, quindi i parziali. 22-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10, quindi il tie-break decisivo per la Sir che ha visto dall'inizio tra l'altro un buti anche convincente come centrale, non sono bastati però i 21 punti di Zaitsev e i 17 di Russell, tra i migliori sicuramente Juan Torena nella Lube che ha chiuso tra l'altro anche con un piccolo infortunio e poi soprattutto Sokolov autore di 25 punti decisivo soprattutto al tie-break. Quindi terza sconfitta consecutiva per la formazione di Kovac che però ha dato segnali di risveglia.